Civitella è un comune sempre all'avanguardia e lo è sicuramente anche su questa tematica che è molto delicata ma anche molto sentita soprattutto dai genitori. Sì assolutamente sì, come amministrazione siamo veramente onorati di essere partner di questa iniziativa. Con la scuola per noi non è una novità collaborare e così con la consulta dei genitori, soprattutto in temi di particolare importanza nei giorni nostri. Quindi siamo qui oggi per discuterne con docenti, appunto con genitori e probabilmente con gli stessi ragazzi. Questo è molto importante perché come sappiamo la rete è un ottimo strumento ma occorre usarlo consapevolmente. Riconosciamo come amministrazione un altissimo valore a tutte quelle azioni di coordinamento, cioè di sinergia tra varie istituzioni. Oggi ne è appunto una dimostrazione perché abbiamo comune, abbiamo scuola, abbiamo consulta dei genitori e abbiamo casa della salute. Presidente, tanto felice di ritrovarla al suo posto, no? A noi è scolastico iniziato, insomma qualche battaglia è andata a buon fine ma insomma ci sarà forse ancora da comparterne altre ma insomma già ci lasciamo alle spalle, è un bel risultato. Allora il discorso del cyberbullismo, i ragazzi oggi hanno ovviamente, sono dotati di smartphone, tablet, tutti gli strumenti del caso ma io so che dentro la vostra scuola siete rigidissimi da questo punto di vista. Siamo rigidissimi perché crediamo che debba essere uno spazio protetto e protetto in questo senso non si usano strumenti che non siano sotto controllo della scuola. La scuola da quest'anno è completamente coperta da wifi, se dovessimo concedere a tutti i ragazzi l'utilizzo del cellulare sarebbe impensabile riuscire in realtà a controllare questa cosa. Pensiamo a spazi dove ovviamente la vigilanza è più delicata come i bagni, come i corridoi, come comunque i tanti angoli della scuola. Quindi siamo convinti che si debbano usare le tecnologie e che i ragazzi le debbano conoscere ma al tempo stesso noi dobbiamo mettere in sicurezza tutto ciò. La consulta dei genitori è un partner assolutamente necessario, promotrice anche di questa iniziativa proprio perché i genitori sono i primi a dover proteggere i propri figli. Non so se gli strumenti sono effettivamente poi tanto conosciuti, gli strumenti di protezione. Da parte dei genitori qualche volta no, ma come la scuola vogliono tenere a sicuro gli alunni, i genitori vogliono tenere a sicuro i propri figli. Infatti i genitori hanno chiesto proprio questo incontro per riuscire a capire come funziona il tutto. E poi potete tenere appunto assicuro i propri ragazzi da questo web che è sempre più a macchia d'olio in tutte le scuole e al di fuori delle scuole. Con lei allora entriamo un pochino più nel tecnico perché appunto questa rete di protezione è possibile, ma con quali strumenti? Perché sappiamo che ci sono dei blocchi, però non è semplice. L'idea è quella dell'educazione, cioè far capire ai bambini questi strumenti, intanto quali sono i pericoli, ma anche quali sono le opportunità. In maniera che non vengono utilizzati soltanto come strumenti passivi, che quindi vengono soltanto fruiti e spesso, ma anche come strumenti creativi, quindi per creare contenuti che siano in qualche maniera positivi. E soprattutto spiegargli quali sono i pericoli, ma quali sono i loro diritti e i diritti degli altri. E quindi l'educazione come chiave, l'educazione ai media se vogliamo chiamarla, perché in qualche modo l'educazione ai nuovi media è quasi oramai un'educazione civica, perché si parla di bullismo, perché si parla di diritti, perché con i nuovi media si può parlare di qualsiasi tematica. Per cui è proprio l'educazione la chiave ed è importante essere qua, essere in una scuola a parlare di questo, perché oggi l'educazione è in qualche modo digitale affidata alle famiglie e questo non può funzionare, perché ci sono bambini che vivono in famiglie che sono molto informati e quindi sono chiaramente meno in pericolo. Bambini che vivono invece in famiglie con molti strumenti digitali, ma che invece non vengono utilizzati in una maniera consapevole e quindi sono in grosso pericolo perché hanno molto accesso e poche protezioni.